Cos'è il fluoruro di calcio? Da non confondere con il fluoruro di sodio, che è il fluoruro più comunemente usato nel dentifricio, il fluoruro di calcio è un minerale con la formula chimica K2. Il fluoruro di calcio si presenta come cristalli isometrici in natura ed è anche noto come fluorite. Anche se a volte viene usato per aggiungere fluoro all'acqua potabile e in alcune applicazioni dentali, viene utilizzato principalmente nelle industrie dell'acciaio, del vetro e della ceramica. Il fluoruro di calcio è utile nella produzione di lenti e prismi nell'applicazione di lunghezze d'onde dell'ultravioletto e dell'infrarosso. Poiché è un materiale duro che è stabile, si traduce in prodotti durevoli e resistenti. In un altro uso, il fluoruro di calcio sintetico viene utilizzato nella produzione di pastiglie per rompere perché aiuta a ridurre l'abrasione causata da calore e attrito elevati. Esistono gradi di fluoruro di calcio disponibili per diversi usi nella produzione. Il fluoruro di calcio viene trasformato in cristalli attraverso un processo di fusione e raffreddamento. Il minerale è così resistente che può resistere a temperature fino a 800 gradi Celsius, 1472 gradi Fahrenheit, e questo lo rende un componente molto preferito nella produzione di lenti per applicazioni laser. I produttori di questi prodotti ordinano i grezzi di fluoruro di calcio dai produttori secondo le loro esigenze. Si ritiene che il fluoruro di calcio abbia poca tossicità acuta, ma comporta problemi di salute se inalato o ingerito. La combinazione del minerale con altre sostanze come gli acidi minerali può comportare la produzione di fumi corrosivi e tossici. Può causare problemi respiratori, gastrici, del sistema nervoso. Coloro che stanno lavorando con il fluoruro di calcio nella produzione devono adottare le precauzioni necessarie per evitare l'inalazione o l'ingestione del minerale.